visti perfetto non dobbiamo partire subito però raga dobbiamo dopo 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 perché poi ci vedono esatto dobbiamo sempre buildare sopra l'acqua con la safe infatti almeno il renderizzo bene le build laggiù esatto certo ci muoviamo altri abbiamo una marea di materiali a me non mi build a raga vero anche a me a me è consiglio ci hanno fatto cadere ci hanno fatto cadere raga mettono la giaccia ma notte l'acqua nell'acqua ce la faccio da rego ok c'è l'esercito sono vivo io ragazzo ma vabbè proviamo a urinarla c'è gente da me un tizio da me era quello che ci avrà fatto cadere sta qui stava lì dietro salire adesso raga saliamo su sta saliamo qui raga così che abbiamo lei ground venite fidati e rifacciamo la sua mano non sparate non sparate ma vale male come si fai da noi timore che pizzerino a scelgato 32 white a 1 ok siamo in ground e noi giuro grande vuole quale se si sta tanto tranquillo tranquillo per questo non armi mi ha detto materiali mi ha dato ma sentivo la riprovassimo ci troviamo arriva c'è un che mi spara da lì si dalla l'ho visto anche qua sotto riga con sotto con sotto spammati di granate se ne avete non c'erano testa vinti soltanto a traccato a traccato a questo soccanto ha sfumato su questo facciamolo cadere l'occasione raga mi sono ok 30 anni di danno l'acqua ci buscino fermato è che ho sentito uno che ha giampato di qua si eccolo a me la roma bel po rega me la gomme un bel po ma sotto questo tocco traccato 30 30 bianco ragazzo prima mandare la cifra e ce l'avete la giampa non avete no se ne ha provato in tutto dentro di un craccato 70 ha fatto mi sarebbe uscito mi sarebbe uscito ci stanno barrett c'è bar è pieno da niente si fai da una sopra lega che cuore portiamo che ci sono e scelta che posso portare c'era io 6 cilini e cresce il donire da avete colpi colpi barrette avete colpi barrette signo 24 david david e mi lasci colpirà potete darmi lì ne ho quattro di raggi ne ho quattro di raggi barrette dati a tutti all'anno 115 dalle giampa 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 vai 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 giampa giampa mette a giampa ora o no l'ho usata non ci si è messa quando stavo cadendo ci mirano oddio non mi ha mi ha colpito però non mi ha fatto il danno che c***o io mi basso a paura dei sport per me poi non ho neanche una r io l'ho lasciata per il lancio alla ziviola io sono pieno di mazza raga mi ha fatto salire mi ha fatto salire lo so ma il mio da un coraggio sotto la spama da rischio di raggiungere a 10 ho fatto 10 da caduta madre aspetta aspetta ricassi amore 3 contro 3 stavate spaventare 150 domani non vale spaventare la spaventare malissimo danni spaventare la di 70 e c'è traccato bloccato un regalo mercato 1 mi raga non facciamo in pace ho confermato una confermata una c'era uno qui dietro è una cosa trova rischiano con sotto di raggi che dobbiamo andare in safe dobbiamo tornare in data di gioco verso il video video cosa qui sono un altro legato lo sniper o salva qui sotto è da un'italia spama spama di raggi danni qua sotto spama di raggi e siamo a casa un tizio qui da me raga uno da me qui sotto e sali david e sali una cina uno proviamo il tricco è così da me sta qui da me sta qui david sta sotto questa scala tira un raggio un raggio dove questa scala e lo sento regalo sento sta sotto spacco l'albero 115 non so quanto cacchio ho fatto danni un'idea io spero un colpo barrette e voi ragazzi c'è un altro ancora dov'è l'altro ma la risposta ho preso i basi l'anno accaduta io 35 il pato mi sa ma l'idea non so se gliela facciamo a fare il trick è lo so gioco l'albero è normale traccato 15 mi fa capire ma scusa valeri sta davanti a me seguenti a me catta ma lena 10 risali vero e danno impossibile da sotto di potere una polizia 154 mi spama c4 mi aspetta che muoio e che mi strada bende o prendi accennati noi c'è stato uno per cocco sto per tirare lì sta da messa da me ma non è noccato david 1 l'ho ucciso col bar e anche perfetto dai raga 2 2 2 2 1 io proverei a buttarmi nell'acqua lo voglio fare il shot la sua stanza troppo è una cosa vista questa direi quello che fa lo capire così che spreca il build così deve scendere per forza ma vai ma è solo cadere come vedere è andato sotto due al barato di lui e sa qui sa qui poi spama spama di tanto al mio cadere salto io no il 500 che è caduto no ma che sfiga ma che schifo ma dai che wind voglio fare qualcosa di figo david e siamo andati per fare la sky base alla fine alla fine facciamo la win così a casissimo io vedo una kill raga io ne l'ho raga io ho fatto 8 kill ma io volevo fare il trick shot e buttarmi nell'acqua e lui che fa cade che era pure perfetto c'era l'acqua non ci credo che è caduto e morto che rabbia quando vuoi urnare non ti fa mai urnare anche l'altra volta con danni volevo fare un trick shot e però l'aug io ho tolto per il sbaglio non è accusato che è morto adesso che vogliamo fare le 20 bombe questa volta non facciamo la sky base no no ma grazie non c'era a grazie abbiamo ma troviamo a fare più kill possibile così alla fine abbiamo un barretto una grande a meno un colso dove c'è il barretto che al bar e si arriva ma questa la clip da vedere lei salva no 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 non faceva cagare ho fatto anche danni quanti che avevi tre una io avevo due due dieci davide quanto che l'avevi una c'era che hanno fatto un 10 kg così a casissimo davvero vale tu ne avevi 10 a 9 kg david da anni due te una ma come fatto a fare 9 kg e poi andiamo qui e prendiamo i barretto vai vai perfetto perfetto dai ma david è più praticamente e non c'è io sfumato andiamo in questa regione nel sì io io di quella cosa rega così che ci proviamo ad uccidere le persone vabbè david è comunque di kill come se ne avessi fatto sei perché all'inizio non ha regalati tre è esatto il gioco ci sta in tre botto uno che picconava il muro uno in aria stava fermo l'ho fatto con la pistola e l'altro che ci che mi ha provato a sparare però tipo i botti sono strasmirati raga io vado qui ho fatto uno cosa non aveva che era white che lavora serata ma avete notato che hanno depotenziato il ping si da lontano non lo fai quindi usano a tirare il ping praticamente non è che da lontano non puoi farlo è solo che tipo e poi pingare per terra non tipo una casa perché la casa è come se starebbe volando secondo la logica di fortnite vabbè ovviamente che te con una un'altra personina viola da nella vuoi ovviamente davidate con carta e penna puoi costruire tutte le cose che fa fornette però non ci sono e mi sembra perché ma non c'è gente da mille lato un bel po c'è pure la prima città vuoi oppure no mi porto i cilini oppure dei c4 che sono buoni la cosa no probabilmente li scambierò per un mare anche c'è lo scambierò per un barrette probabilmente lo sceglie ok ai cadavano sull'esercizio 8 io io sclero ma no perché tutto è perché viene un sacco spesso in creativa allora voglio vedere si vada io non sia senza che quando vedo vittoria reale mi dice hai ucciso con danno da caduta io dico ma esatto che rabbia ci è muto noi volevamo solo farlo cadere non avevamo capito che era così ma così è morta beh tanto non ci sente siamo in chat nel gioco esistico ma riguarda veramente non c'è trato gente o 6 c 4 raga non ci credo buoni 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 regaio 3 medi kit ricordiamo a prendere i barrette è possibile che ho trovato 9 anni possibilissimo raga io sto portando uno cildino e allora si va l'ho pingato qui perché mi prendo il medica quindi non posso portare ma io ho già tre medico davidosi voce nel nostro ok ma le tue nuove armi tra quale piccolino e mitraghietta e assalto bianco tutte uguali tutte e solamente quelli notte normale raga io mi prendo sta cesta e poi vado al prendo guardate che ho trovato guardate che ho trovato rega cosa madama che scortuna mi lascio questo rega e la prima avevo trovato quella e anche ce l'ho mi lascio lei ce l'ho anch'io per caso l'altro io ho trovato lo spasso dentro la cesta leggenda vendette la cesta è normale io mi prendo un po di mazza io ricordo ricominciando a ritrovare le armi tipo leggendari epico e dentro le ceste normali che non succedeva dalla season 3 dopo da quando la season capitolo 2 le armi si potevano leggendari e solo nei drop e nelle ceste leggendari l'altro giorno ho trovato due ceste leggendari a brugliari in due casi accanto va bene lo sai che quando me l'avevi detto l'altro io se ho trovato subito lo sai che cosa ha trovato cosa non si è tra lo spasso viola e scar leggendario e l'amato e testo strano che non è andata due pistolini in una viola una legenda perché se non succede mai non so se mi parli che però ricorda non c'è sbatti di formare è stato prima a fare farmi la serie io mi porto il preliva pesce non c'è sbatti di formare cioè prima abbiamo formato per mezz'ora poi ci hanno pure buttato giù esatto io ho spiegato la risa molto granate e prendo una buona spiegata cioè perché tu non ti mi hai reso conto che noi avevamo abbildato apposta nell'acqua esatto c'è sempre garantito un barretto in questa posta speriamo ci siano due almeno qualcun altro ce lo prende magari danni e fa il trick io non so buono venti lo prendo io vi difende basta ho già il barretto grande però da un tizio fuori e non per un tizio è quello che intendevo io e poi quello dentro lo prende david va bene si c'è dentro ovviamente no ci sarci sarà sicuro e se già il tizio come barretto ai amore spero di trovare un barretto ti prego dio godo l'ho trovato sì e ci sanno anche c6 cildini me li porto io sì sì al posto lascio 6 g4 allora sì io ne ho già tre quindi me dai a me va bene da no no ok cos'è cosa avete vingato un altro pre liba pesce perché io porto pre liba pesce no no mi ha tolto un po di danno io so david mi puoi dare un po di uno scendino due dai david era un po ci lei colpi cecchino david e not 31 me ne puoi dare 10 e 5 ti prego perché non ne ho 7 e ma che dia vale quanti cina perché vale neanche c'era il barretto oh mio dio ma con valesco ho troppo di un idrope di ok vai grazie vengono io vengo io devo farmi me plot aveva da pescare Se trovi un prelibare Lo porto Due barretti Raga avete colpi Colpi pompa Ne ho 14 Io ne ho 0 Perché non ho il pompa C'era una mitraglietta Bella qui Eccola A me non fa impazzire Perché finisce subito Ok io ho due flopper Perfetto Ok io ora ho 43 colpi cecchino Io 19 Però mi basta C'è una pozza lì Io pescherei Eh si però ho buttato la canna Eh ci stanno altre canne qui Dove Dove David Oh grazie Io lascio un ottimo C4 però eh David Ti serve Davide ti serve Il prelibapesce Davide 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 Prendiamo il risco Il bagno che ci porta direttamente Eh aspetta vale Io intanto Davide posso farmelo? Si si Mi cazzo gente Aspetta eh Ah grazie Mi han visto Dov'è David? 29 Craccato uno Porco schifo che mira che c'ha Craccato Quasi fatto uno Quasi fatto uno Ma guarda tu dove sei Sei trontanissimo Prendi il bagno e ci arrivi Vai Vedi Uh pistoletta leggendaria No ragazzi Sono due contro uno Sono morto Raga sbrigatevi Sono a smoglio Uh l'aug Eh porca vacca Che mira che c'hanno Madonna Sono la mira della vita Vai sto venendo anche io Raga Io rigate davide Sennò È molto difficile Vai sto venendo Poi sfamano come dei caumulini Davide Davide Sfamati un po' di più va Sfamati E godo godo Mori brutto Stupido Bravo Sono uno da me C'è uno da me C'è uno da me Mori mori Spamati spamati White white A 15 di vita Eh si fa i flopper L'ho chiuso Vai Prima mi hanno spammato E li spammiamo noi E di due contro uno No no È morto Praticamente Arriva mamma Edita Riesci a restarmi Tanto Perché mancano Presse Ma Aiuto Davide Io ci muoio Uccidere Grande Ti stimo Mori Ti babbuini Mi stavo spammando in due Ah ma Dani è morto C'è un altro tizio Altro tizio Vale se attento Avevo visto un altro tizio C'è sentito E' presente la cosa dei passi Ok andiamo a restare Alla lago Ah la lago C'è un tizio ragazzi C'è un tizio C'è un tizio Sta qui Da solo Ok prendi il bagno No andiamo a restare Alla lago Andiamo a restare Alla lago Ma è meglio Brugliere fra Ok vai Brugliere più vicino E vale metti la giampa Allora E la metto Ma lo sprechiamo un po' Che tanto E' tanto è lenta la safe Ce la facciamo Poi ho 5 medica Davide Ah ok Io ho pure due flopper Perfetto Questi qua Erano dei cancri I due lavori a serati Poi lo sai che cosa volevo fare Volevo entrare dentro il bagno Così voi gli piazzavateci Quattro davanti alla bocca E poi Mi hanno cominciato a spammare Tutti e due con lo scar E con la mitraglietta E praticamente Quindi uno Per esempio Quando stai boxato E uno da davanti E uno da dietro Così ti prende i muri E ti editano Sì sì E non penso Tutti e due muri Io Spammati C'è un altro mezzo E mi faccio doppio accetto Con lo scar Però non credo che Vabbè Vai vai Adesso danni Io prendo quel mezzo Mi ha fatto doppio accetto Con lo scar E uno è morto E poi abbiamo spammato entrambi C'è un momento Dei cancri assurdi C'è pure l'entr Quando vedo che sei da soli Quando si prendiamo Magari troviamo scildini Io ho finto le shield Io ho pure un fracco Di colpi Quando vedono che sei da soli Spammano come se non fossi un domani Mamma mia È proprio schifo Sti giocatori Poi giocano in pubblica Siamo in una safe Da 20 persone Mi dici che hai uno Ti spami È un bug Dani Mentre io vado in sé E ti lascio due cildoni Ragà non mi serve Che mi eravviate Andare No no Che mi eravviate Mi servite Ha riavviato Troppo tardi Vabbè Dani è tranquillo Da No Di andare via No Deve andare via Ha detto David Ok Vabbè ciao Dani Ciao Ciao Dani Ciao Ciao Fatti già pronto Ok Uh aug Io pure dopo questo Devo andare Da Aug Viola E ci sa anche Due voce Vale tu che cure hai Ho tre cildini E tre medit Allora io porto due voce Al posto dei cildini Ho solo tre cildini Però è Ulla sef è qui vicina pure E' culoz Regas Hanno fatto il rebot E siamo in 22 Capì Gli vinti romeriti Davide C'è troppo pure una Seguora E la televisione Ma visto che loro vinceranno Sicuramente Ah Trac Vinceranno Sicuramente Città Dani Grazie Grazie Dai Che c'era Goffi Così Così Me la dà Anche a me Sì Ma di Tanto per Volevo Sicuramente E quindi Rimango a Vederli Vabbè Davide Sti cavoli La vinciamo E easy Claccio Questa No Alla fine Dai Dani Ti prego Grande Che Giol Barrett Davide Tanto Pure Siamo Dobbiamo Chillarne Facciamo Si Dobbiamo Chillarne Uno E Sare Due Più Guarda Ma Do Che Fight Che C'è Stato Qui Ancora Si Fight Anuli E Io Troppo Anche Pomp Da Anima Tra Quanto Smetti Tu Di Giocare Ok Ciao 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 Vale Siamo Però Stiamo Vicini Però Perché Dato Che Già Siamo In Duo Versus Davide Mi Tiro Il Cambio Dello Shield David Mi Tiro Io Sono Lo Scendo Tanto Sono Fondo Tirare Ah no Mi renderizzavo Che era C'era Ancora E poi Scoppiato Io Sono Full Di Tutto C'è Un Air Drop Vicino A me Ci sarà Gente Che Lo Verrà Da Me Sei Tu Che Barrette Sì Ma Dove Sono Vale Ah No All' Troppo Sopo E Però Poi Fai Vedere La Tua Posizione Tante Ho Già Un Lotto È Stupendo E Si Voglio Per La Pozza Lo Voglio Un Poi Per Ragion Ci Sta Uno Scar E Io L'ho Fatto Per La Cosa Ok C'è Un Tizio Qui Dove Per Fetto No Grande C'è Un Altro Qui Aspetta Che Lo Confermo No L'ho Lisciato Lo Pusciamo Con la Giampa Fra No 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 Gentizio Qui Non Pushare Vale Siamo In Due Ricordati Contro Squad Ma L'hai Ucciso Quello Ok Hanno Ucciso Dani Eh No Non L'ho Ucciso Hanno Ucciso Dani Quindi Stanno Qui Io Vorrei Andare Io Spaccato Per Vedere Dove Mi ha Dato La Kill Sto Cercando Di Capire Dove Stanno Una Cosa Questa Dovrei Mandare In Safe Siamo In Sei Noi Contro Altri No Io gli sparo Per farli Ma quanti colpi Barretta hai 64 Oh C'è gente Che si fa i tagli Credo Sì Sì Vale Da qui Da qui Qui dentro Ma dove stanno Capisco Eh Sono dentro David Comunque Siamo In Quattro Noi Contro Uno Contro Uno Mi ha Sparato Eh Siamo Noi Contro Uno Contro Uno Sì Non capisco Dove Sia Però Vale Io Oppure No Spacco Qui Vediamo Se Sta Lì Un Tutto Vale Quanti colpi Barretta 62 Ah va beh Io non 60 Quindi Oh l'ho visto Sta lì fuori Qui Qui No Assaltato 24 Bianca White Triple 24 Bianco Tra Giampiamo E Andiamo In bocca Via Guarda Non Giampare E White Adesso La Davide Fidati Spamagli Bravo 8 Ok Ultimo Però Non capisco Dove Siamo Vorrei Faire Il Trick Eh Non C'è L'acqua Però Ma Non Capisco Dove Il Tizio Sarà Campionato Ah Quella Quella Quanto Dove 228 Non mi renderizza Cioè Non mi Pinga Su Dove Prova Là Ovviamente Io Pingo E mi Pinga L'esca Ma Non è Che Sa Da Me Qui No Però Penso Sia No Là Dove Ho Pingato Io Non Ci Sta Io Sfacco Gli Alberi Ma Non È Che Sta Camperato In Questo Gespuglio No Si Campera Questo In Teoria Un Che Sta Camperando Sì Quindi Potremmo Provarci A Fare Il Trick Almeno Di Nosco L'ho Visto Sta Qui Vai 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 Perfetto Prova A Fare Un Trick Prima Lo Indebolisco Stab Build Ha Un Poi Build Prima Ok 20 36 Beh Lo Hitto Un Po La Ci Sta L'acqua Non so Se Si Prende Danno No No Faccio Uno Io Con La Jump Ok È Craccatissimo È Craccato Si Sta Curando Ma Dov'è Sta Qua Dentro Ah Si Ha Curato Questo Babbino Io Spacco Tutto Lo Faccio Cadere Stiamo Di Granate Valle Ce Lai Una Jump Un'altra Jump Si Si Ce L'ho Aprile Troppo Fra Aprile Troppo Tra Una Sicura Ha Jump Ma Mi viene A push Seriamente Non Mi Mi Busce A me Sto Scappando Ora Trenta Craccato Vai Vai È Craccato È Caduto Giù No È Caduto Caduto Aspetta Ci Prova Sta Buildando In Altro Già È Già Un Pad Di Nuova Mi Ricaricare Il Barrett Stata Me No L'Hommissato 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 Bello Sissato Ho Missato Sto Continuando A missare Aspetta Come prendere Un'altra Giampa Poi Si Salga Guarda Come va Uuu L'Hommissato Let's go Grande Quanti Chi l'ha Fatto È Due Vabbè